Qualcuno ha detto, l'archeologia non è quello che si trova, è quello che si scopre. Allora alcuni uomini sono il perfetto esempio di quanto sia importante il lavoro, la determinazione e la passione per la ricerca. Siamo nel 1873 e questo è un anno in cui le leggendarie gesta dell'Iliade diventano realtà. L'uomo che appunto scopre la città di Troia è uno che oggi potremmo chiamare polivalente, che ha molta sagacia, tanta tenacia e riesce a portare alla luce i resti della gloriosa città di Troia. Lui si chiamava Irish Schliemann ed è uno dei più grandi archeologi di tutti i tempi, ha un'esistenza molto avventurosa e come direbbe qualcuno è anche una persona molto divisiva. Il professore Massimo Cultraro, uno dei maggiori studiosi dell'archeologo tedesco, ha pubblicato Schliemann alla ricerca di Troia, una collana delle grandi imprese della storia del Corriere della Sera. Ma come sempre di tutto questo e tanto altro ne parleremo dalla parte del libro. Adesso sigla! Amici di Globus, buonasera e benvenuti anche questa volta dalla parte del libro, la vostra fedele vitrina di tante novità letterarie, ma soprattutto tante tante passioni culturali. Oggi torniamo indietro, torniamo ai miti, alle leggende, che poi alla fine diventano anche realtà, grazie appunto a un archeologo tedesco definito visionario, ma ne parleremo meglio. E quindi appunto oggi ne parleremo con l'autore, il professore Massimo Cultraro, che è autore del libro Schliemann alla ricerca di Troia ed è un libro della collana, i grandi, aspetta com'era? Ok, le grandi imprese della storia del Corriere della Sera. Grazie Massimo di essere con noi, è un onore per noi. Grazie, è un piacere, molti viso. Allora, Massimo Cultraro, dobbiamo fare la presentazione, noi ci conosciamo da qualche annetto, per cui per me sei Massimo Cultraro, ma invece sei Massimo Cultraro, archeologo, dirigente di ricerca presso l'Istituto per il Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Catania, specializzato in archeologia preistorica dell'Egeo, presso la Scuola Archeologica Italia di Atene, dottore di ricerca presso l'Università di Pisa, ha cominciato l'attività di docenza in preistoria Egea, paleontologia, a Perugia a Cagliari e poi dal 2003 sei all'Università di Palermo. Vabbè, io ho fatto un piccolo putpuri, ma ho visto onestamente il tuo curriculum ed è molto molto più ampio. Però diciamo che da qualche tempo a questa parte ti appassiona la figura di questo Schliemann, di questo che non ti nascondo, io conoscevo come appunto lo scopritore di Troia, ma non conoscevo la sua personalità. Ecco, in due parole, chi era Schliemann, Eirich Schliemann? Eirich Schliemann è l'inventore dell'archeologia nel senso moderno del termine, come metodo, come percorso di ricerca, anche per quello, anzi direi soprattutto per quello che ha scoperto Troia, che prima di lui era una città del mito a cui nessuno credeva e pensavano che fosse un'invenzione di Omero e invece al contrario ha dimostrato con documenti alla mano, chiaramente la documentazione archeologica, che Troia è realmente esistente. Infatti noi diciamo, l'abbiamo detto appunto all'inizio, in anteprima, appunto che la mitologia diventa, a quel punto diventa invece realtà e mi pare che prima di arrivare a Troia però lui abbia fatto un bel po' di travagli, anche viaggi, anche appunto abbiamo parlato di una persona abbastanza divisiva, nel senso che comunque molti non credevano a questa storia, questa storia, a questa sua visione. Però Shuliman nel momento in cui uno legge il tuo libro ma appunto si documenta, era un tipo molto particolare, era un uomo d'affari, era un uomo che era nato non ricco ma comunque aveva poi accumulato tanto patrimonio con anche delle attività spregiudicate, però aveva questa passione. Ecco, era un testardo, uno spregiudicato, ma la passione, come la passione dell'archeologia, come gli è venuta poi? Beh, Shuliman ha contribuito al mito di se stesso perché già nel 1886 e quanto pubblica il resoconti di scavo di un'altra celebre città del Micenea, che è la città di Tirento, conclude il volume con un'autobiografia, qualcosa di veramente rituale per quell'epoca, ma si spiega perché erano aumentati i denigratori, coloro che ce l'avevano con lui. Shuliman non è un archeologo, non è nemmeno uno scienziato, è un uomo che viene dal mondo degli affari, prestato all'archeologia. Perché mi pare che lui comincia anche, facendo anche la ricerca dell'oro in America, poi si mette a commerciare anche l'indaco che era il colore, che poi appunto anche come diciamo un po' dietro a telecamere spente, era riuscito a vendere in guerra, in periodo di guerra, in ambedue le parti belligeranti, riusciva lui a commerciare ambedue le parti senza nessun problema, questa grande capacità ecco. Era un uomo d'affari spregiudicato, che veniva dal nulla, il padre era un pastore protestante, la madre un insegnante di scuola elementare, quindi non aveva minimamente idea di cosa fosse il mondo degli affari, però quando arriva in Olanda, giovanissimo, entra a lavorare in una società legata a Rothschild e lì apprende proprio i rudimenti della speculazione nel campo della finanza, dell'alta finanza e si arricchisce nel giro di pochissimi anni. Ma questa cosa, cioè, lui praticamente appunto, tu hai detto poco fa, non era un archeologo, quindi non aveva diciamo anche le, chiamiamole tecniche degli archeologi di quel periodo, infatti tu nel libro dai anche, cioè, delle informazioni su degli errori anche abbastanza grossolani, parlavi di una montagna scavata completamente per arrivare magari perdendo anche altri reperti, perché lui voleva arrivare all'età del bronzo per quanto riguarda appunto Troia e quindi, cioè, ecco, questa cosa però lo caratterizzava anche nel suo modo di essere, cioè voglio arrivare lì e basta, cioè non mi interessa tutto il resto. Era un uomo molto determinato, così come lo era nel mondo degli affari lo stesso, la stessa pervicacia la dimostra nel contesto archeologico, nell'organizzazione per esempio dello scavo, che era una sorta di campo militare retto da lui in maniera molto ferrea, dove tutti gli operai partecipavano, venivano ben pagati, partecipavano all'attività di scavo, però al tempo stesso dovevano rigorosamente obbedire a quello che lui voleva. Ed è anche un inventore poi alla fine di tutta una serie di metodologie che ancora oggi noi continuiamo a utilizzare nel nostro campo. Ma infatti, praticamente, quando tu parli di scoperte, lui per esempio per la prima volta era, cioè, sempre operatore nel campo, cioè era sempre lì presente, infatti, è importante, magari se la regia ci manda un po' i suoi viaggi, quello che loro, cioè che lui faceva prima di preparare uno scavo, chiedendo appunto, questi un po' sono, questi per esempio in Europa, tra l'Italia che è stata molto battuta, poi infatti lui è morto anche a Napoli. E c'è anche, fuori carta, ecco, c'è il resto del mondo che ha visitato, anche fuori da questa stessa carta, è stato uno dei primi europei ad arrivare in Giappone, ancora il Giappone sotto lo sciogunato, prima della riforma Meiji, che poi aprì le porte agli europei. Era uno dei viaggi più pericolosi che lui abbia fatto, cioè, almeno tu lo puntualizzi questa cosa. Al punto che, prima di partire, sentì la necessità di fare testamento presso un notaio inglese. Che però, come tutti, cambiava, ogni volta che viaggiava partiva il viaggio, perché comunque aveva anche delle passioni, diciamo, collaterali, che erano quelle delle donne, per cui c'era prima la moglie, poi divorzi. Ecco, appunto, questa passione per le donne che aveva, come... Beh, questa passione è stata oggetto di ampio dibattito, in particolare da parte degli psicanalisti di scuola freudiana, che hanno visto, in questo rapporto morboso che aveva con le donne, qualcosa di ossessivo e compulsivo. E in effetti non si sono sbagliati. A Monte c'è una vicenda personale, che il giovane Eirich vive all'età di nove anni. Quando il padre, ripeto, era un pastore protestante, vivendo in questa piccola comunità della Germania nord-orientale, quindi fredda, umida, lontana dalle grandi città, era il punto di riferimento anche etico di colui che dava i consigli. E questo uomo si macchiò del fatto di avere un... avuto un alliazion sentimentale con la cameriera. Quindi ne nacque uno scandalo, i figli vengono allontanati dalla podestà paterna e la madre... Lui ebbe quattro figli. Lui ebbe tre figli dalla prima moglie, che era rossa, e altri due dalla seconda, che era di origine greca. Si chiamavano Agamennone? Allora, Agamennone e Andromeda. Bellissimo questa cosa. Si chiede proprio i nomi dei poemi omerici. Esatto. Ma tu praticamente hai parlato adesso di ossessione. Per esempio, una delle altre ossessioni che questa persona aveva era quella di annotare tutto, di scrivere, di disegnare. Infatti noi abbiamo anche... cioè, di disegnare tutti gli sky, questa è la prima cosa. Di fotografare, per esempio, che è stato il primo fotografo archeologo. Ecco, cioè, questa era proprio una sua passione. Infatti credo che tante cose si siano scoperte anche grazie ai suoi scritti, no? La sua epopea nasce grazie, dicevo prima, all'autobiografia che gli stesso compila. Però quando poi si è entrato in contatto con i documenti di prima mano, si è visto un altro mondo. Lì si è visto Schliemann a nudo il rapporto con le sorelle, con le donne, con le moglie. E ne è venuto fuori l'uomo. Un uomo che anche in questo caso era affetto da un'ossessione, quella di annotare tutto. E poi tu dici anche, praticamente a volte mandava, per esempio, delle lettere che avevano una realtà differente a secondo di chi era il destinatario, tra la moglie, tra i soci, tra le sorelle. Appunto c'era proprio una vera e propria differenza. E lui portava dietro tutto questo faldone perché naturalmente doveva ricordarsi quale aveva scritto e come li aveva scritti. Quando andò negli Stati Uniti scoprì l'uso della carta velina, della carta carbone e si fece allora commissionare da una stamperia di New York questi grandi quaderni dove poteva scrivere la copia in originale e gli restava quindi nella velina la copia di quello che scriveva. Perché in media lui rispondeva ai suoi contatti ogni mattina prima di metterci al lavoro, intorno a 30 se non 50 persone. Quindi impiegava buona parte della mattina a scrivere lettere. E non sempre si ricordava di quello che scriveva. Per questo aveva bisogno. No ma diciamo che questa persona per il suo atteggiamento, per il suo modo di pensare, per il suo modo di agire, mi ha ricordato, naturalmente facendo tutti distingo del caso, ma mi ha ricordato molto delle persone che, tra virgolette, hanno lasciato un segno anche da noi in Italia, ma un po' anche, ci parlerò di Berlusconi. Cioè, determinati tratti che sono appunto delineati nel tuo libro, ma anche appunto cercando un po' in giro, così, facendo delle ricerche, ecco proprio avevano tantissime similitudini, questa capabilità, queste passioni sfrenate, questa voglia di arrivare. Schliemann parlava 21 lingue, aveva imparato 21 lingue. Berlusconi aveva imparato il francese per andare proprio in Francia e così via. Cioè, quindi tutte quelle situazioni che servono proprio per crescere. Ma è così, diciamo, fuori dal mondo questa, diciamo, quest'idea oppure no? No, è un parallelo alzeccato. Oggi, se fosse vissuto nei nostri giorni, sarebbe uno dei tycoon più spregiudicati, da far impallidire lo stesso Trump o Berlusconi. Che è diventato, che è diventato presidente proprio oggi, è diventato presidente degli Stati Uniti. E anche lì, anche con Trump ci sono degli elementi, dei parallelismi fortissimi, questo rapporto con le donne, i numerosi matrimoni e figli sparsi in tutto il mondo, con rapporti sempre conflittuali. L'unica differenza è che forse che Trump comunque non è un self-made man e già nasce in quella condizione per cui, mentre gli altri due no, gli altri due sono cresciuti da soli, cioè si sono fatti da soli. Senti, torniamo un attimo invece a parlare proprio del libro degli scavi e così via. Cioè, parliamo di Troia e prima di arrivare appunto alla città di Troia, lui ha fatto una serie comunque di assaggi di, come si dice, di saggi, di saggi di prova e così via. E però la gente non crea, cioè anche quando lui cercava proprio l'età del bronzo, cercava qualcosa che ricordasse appunto a quell'elemento che era, diciamo, è stato difficile trovarlo fino a quando poi non uscì fuori e quindi la gente, appunto i detrattori dovrebbero dire ok, è vero. Ma di Troia non si conosceva nulla prima dell'arrivo di Schliemann, vi erano diverse ipotesi, si sapeva che doveva essere collocata in una parte. Noi dovremmo avere qualche, per esempio, ecco, questa è una fotografia dello scavo. Sì, dello scavo con i numerosi operai perché riuscì a coinvolgere una comunità vastissima della Troade, peraltro multietnica dove c'erano ottomani ebrei. Perché diciamo che siamo in Turchia. Siamo nella Turchia nord-occidentale, esattamente proprio sull'Ellesponto, sui Dardanelli, una delle aree anche politicamente interessanti che da sempre ha fatto gola ai francesi e agli inglesi. E Schliemann ci arriva perché viveva a Parigi e aveva ascoltato diverse conferenze sul problema dell'identificazione di Troia. Avendo un intuito per la cartografia cominciò a studiare le mappe. Allora capì che su questa grande pianura, bastandosi sulla descrizione di Omero, poteva esserci solo una possibilità, cercare la collina più alta. Era quella che poteva occupare ed era il luogo deputato a nascondere la città di Omero. E ci riuscì. Qua stiamo vedendo un'altra cosa. Ecco, questo mi ha colpito onestamente perché questo è tratto da un film. Però mi ha colpito molto. Tu in una tua conferenza hai detto che il cavallo è cavallo. Perché qualcuno praticamente ha detto che molto probabilmente non era il cosiddetto cavallo di Troia, ma era una nave che era riuscita a entrare nella città. Però tu hai detto che comunque potrebbe non essere... No, abbiamo una prova iconografica inconfutabile. Esattamente nello stesso periodo quanto Omero o chi per lui compongono i due celebri poemi, Liliade e l'Odissea, vi è la rappresentazione su un grande vaso proveniente dall'isola di Mykonos, quindi nelle cicladi, che rappresenta i guerrieri Achei uscire da un cavallo con le vuote. Quindi non c'è alcun dubbio che sia... E allora perché qualcuno... L'equivoco nasce dal fatto che in epoca ellenistica, quindi siamo secoli dopo i poemi omerici, vi è una nave dal nome Ipeus, la cavalla, che a un certo punto si sovrappone col mito omerico del cavallo di Troia. Ecco perché praticamente che poi altrimenti c'era anche a prua, c'è comunque sempre la... ma mettevano una testa, qualcosa che... E' proprio questa, la testa come simbolo del... in genere di tutte queste imbarcazioni, le abbiamo anche lì, la rappresentazione della Tardetta del Bronzo, i popoli del mare che tentano di invadere l'Egitto hanno delle imbarcazioni la cui prua termina con testa di cavallo. Quindi il cavallo è legato al mare, perché Omero ce lo spiega, dietro c'è il mito del padre del mare, che è Poseidon, prima di essere Dio del mare e Dio dei terremoti, perché i greci pensavano che i terremoti si scaturissero dall'acqua, dal mare, quindi ogni qualvolta c'era un terremoto dal mare veniva fuori un cavallo. Quindi il cavallo è legato al mare, è curioso, perché oggi nessuno di noi penserebbe di legare i cavalli al mare, però abbiamo i cavallucci mare. Infatti questo stavo pensando anche alla mia cultura a livello di mitologia, ho fatto anch'io gli studi, però sono talmente tanti gli anni che non lo faccio più, per cui ho dimenticato praticamente tutto. E invece parliamo di Micene, perché un'altra grandissima scoperta di Schliemann fu l'epoca micenea, quindi appunto parliamo della tomba di Priamo, anche lì ci fu tutta una diatriba prima di arrivare, questa è la tomba di Priamo, no? La tomba di Atreo a Micene. Esatto, scusa, a Micene. Poi ci sarebbe anche la porta dei leoni. In questo caso anche lì ci fu comunque da parte sua una diatriba per poter arrivare. Procede alla stessa maniera, se per Troia aveva in mano Omero che lo guidava nella identificazione della città antica, per Micene ha un altro importante libro che è la Periegesi di Pausania, che gli dà l'esatta indicazione di quello che avrebbe trovato al di là della porta dei leoni, infatti scopre il famoso circolo, quello celebre, da cui provengono le maschere d'oro che lo resero, forse ancora più importante della scoperta di Troia, facendo impallinire il famoso tesoro di Priamo. Infatti, qui poi noi adesso abbiamo preso naturalmente un po' di fotografie, che c'è appunto anche la maschera. Però quello che… ecco questa è la… che poi anche qui i detattori dicevano che era stata manipolata perché il baffo in su ricordava lui. Il baffo è stato aggiunto, abbiamo oggi la prova delle foto, la maschera fu trovata cartocciata, quasi leggibile. In una lettera, lo stesso giorno, quando scopre la maschera, manda a chiamare da Nauple, che è una città vicina a Micene, un orafo, un cugino della moglie. Gli serve subito un orafo, probabilmente non solo per fare i restauri, ma per ritoccare la maschera. Facendo aggiungere questi baffi è la mosca al di sotto del labbro, che sono l'espressione della potenza aristocratica di quegli anni, Bismarck, lo stesso Kaiser tedesco, lo stesso Schilliman aveva… Certo, io vi ricordo, pensavo che fosse, diciamo, qualcosa per lui, cioè come quasi diciamo, eleggere un po' la propria… quello che lui aveva scoperto, la propria scoperta, no? Quindi mestere qualcosa di lui. Però qua stiamo vedendo, per esempio, i disegni, perché un'altra innovazione, appunto, era che lui disegnava tutto, cioè riusciva proprio a dare anche delle indicazioni che sono molto chiare, soprattutto nella chiarezza che poi… Questo è sempre Micene, giusto? Questo è sempre Micene, è una delle tompe a Tolos, è proprio la tompa di Atreo che fece scavare alla moglie, è la moglie Sofia che dirige lo scavo di questa splendida struttura. Infatti questa è una delle cose che appunto lui riusciva a fare rispetto ai precedenti, cioè che dava anche, per esempio, il lavoro alle donne pagandole allo stesso modo e trovando anche dei lavori che potessero essere più utili per loro, quindi la pulizia dei reperti e la moglie che comunque… ma la moglie non era neanche lei un'archeologa? No, la moglie non aveva nessun titolo di studio, però aveva, come il marito, un'eccellente memoria e lui stesso ricorda che a menadito recitava l'Iliade e l'Odissea, una cosa incredibile. Fu questo uno degli elementi di seduzione che colpì quest'uomo che aveva quasi 25 anni più di lui. Stiamo parlando di Sofia? Di Sofia, sì. Aveva 25 anni più di lui? Per la precisione 27, c'è una differenza di 27 anni. Perché lui viene da una prima esperienza di una donna russa, dell'aristocrazia russa, che praticamente però non… infatti quello che io pensavo, ma un uomo che vive praticamente viaggiando, e stiamo parlando del 1800, non stiamo parlando di oggi, dove prendi un aereo se dall'altra parte. Quando faceva tutti i viaggi abbiamo visto un po', cioè questo praticamente a casa non ci stava mai, ecco, quindi non era un matrimonio. No, però nel patto prematrimoniale che fece con la prima moglie, volle che venisse scritto proprio questo, che doveva essere lasciato libero di viaggiare nei tempi e nei modi che voleva. E poi alla fine però quando… Alla fine il matrimonio è fatto. Quando saltò però ci fu un pagamento, qualcosa mi pare… Sì, il problema fu ancora più complesso perché la società russa ortodossa non prevedeva il divorzio e allora fece in modo che il divorzio venisse registrato negli Stati Uniti, perché Schilliman era cittadino, era anche cittadino americano, certo. Quindi dichiarò il falso, dicendo, di aver vissuto con la moglie un certo numero di anni a Sacramento e così ottenne il divorzio. E come si dice, si direbbe in Alto Adige un salta fosse. Cioè proprio… Senti, no, invece, tornando un attimo, stiamo quasi per andare in chiusura, però mi piace, cioè tu hai parlato anche di errori negli strati, nella lettura degli strati del terreno. Cioè questo mi ha colpito perché appunto, forse per non avere le tecniche, non avere… Lui aveva le tecniche di scavo, ok, però non aveva la capacità e la sensibilità forse dell'archeologo. Allora, sapeva leggere bene il terreno perché aveva fatto esperienza quando si trasferì negli Stati Uniti per salvare la miniera di proprietà del fratello. Mettendosi a fare lui stesso il minatore, perché era incuriosito, voleva capire come si orientava, gli strati, i filoni aurei, come si riconoscevano le differenze di terreno, eccetera. La curiosità. Era la curiosità, ma era una curiosità però finalizzata anche, molto pratica, perché grazie a questa esperienza e conoscenze capì che a un certo punto questo filone aureo si stava esaurento e quindi abbandonò la miniera. Però gli servì anche a capire quelli che sono oggi diciamo i principi della geologia che poi vengono applicati anche all'archeologia. Il problema dell'interpretazione poi degli strati è altra cosa, gli mancavano gli strumenti perché non era uno storico, non era un filologo, gli mancava proprio la metodologia. Ecco perché i detrattori dicevano che ha rovinato praticamente Mezzomondo perché per arrivare lì ha praticamente distrutto tanti reperti o tante testimonianze che potevano essere utili anche per le civiltà successivo presenti a quella che lui sta andando a cercare. Troia è una città stratificata, dieci livelli, per arrivare ai livelli preistorici capì che bisognava demolire quello che c'era sopra e lo fece nella maniera più rude possibile apprende una trincea longitudinale che tagliò in due la montagna. È ancora oggi visibile, chiamata appunto la trincea civile. Poi hai fatto qualche scavo lì, no? Scavo no, però abbiamo fatto diversi lavori anche con colleghi turchi. Che bello, no vabbè, io ti inviterei solo invece per parlare di te perché mi piacerebbe tantissimo. No ma parlando un po' sempre, diciamo che siamo arrivando un po' a quando, cioè lui poi muore nel 1890 ma fino ad allora lui continua comunque a marciare, continua a viaggiare, continua a cercare e così via. La cosa che mi è piaciuta molto è la sua casa ad Atene che è vicino al Palazzo Reale che l'ha fatta proprio in stile pompeiano e la cosa, ecco lì, ecco c'è un po', forse si dice narcisismo, cioè questa cosa dei freggi in basso rilievo che normalmente appunto nell'epoca greca, romana si facevano, no? Che erano le gesta e lui inserisce lì delle sue, tra virgolette, le sue figure, quella della moglie, quella proprio come inserite nelle gesta classiche, ecco questa... E quella fu un'invenzione di un architetto tedesco, un suo amico Ziegler che gli disegnò questa casa come fosse, infatti nel nome significa il Palazzo di Troia, come fosse la casa di Priamo e lui stesso accoglieva in questo salotto sontuoso e gli ospiti sedento come fosse un monarca. Li riceveva proprio in questa... ma comunque oggi questa casa, questo palazzo è la sede del museo. È la sede del museo di numismatica di Atene ma che raccoglie anche quelli che sono i cimeli di Shiliman, sono stati oggetto di una recente mostra molto bella perché hanno trovato anche gli oggetti che aveva comprato in Giappone e in Cina, sono i primi oggetti giapponesi arrivati in Europa. Addirittura, ma lui comunque poi comprava un po', poi metteva, cioè spostava oggetti per cui li aveva trovati invece li aveva trovati da altre parti, un po' per sempre rinforzare le proprietà e così via. E era proprio questo la ragione. Nel 1890 lui muore. A me fa impressione una cosa, quando il suo direttore a Troia, Doppfeld, davanti alla Salma, lui dice riposa in pace, hai fatto abbastanza, perché aveva fatto talmente tante di quelle cose che praticamente dice vabbè ok, basta. Ecco, questo praticamente è il suo appunto, è la sua tomba. La sua tomba dove appunto c'è tutto un po'... Ah no, era qui che lui aveva fatto le sue gesta, no? Sì, no, ma anche nella sua casa, la primera Troneliu, ci sono dei quadretti che ripercorrono l'esperienza di Troia, per esempio, ma il vero monumento che lo celebra è proprio quello voluto per ospitare il suo corpo, la sua Salma. Senti, però questa è una domanda a questo punto che io ti devo fare. Ecco, uno Schliemann, che praticamente Schliemann l'eroe, definito così. Ecco, ma quale messaggio puoi dare ai te, ai tuoi colleghi, ecco, ai voi che siete del settore, ma anche a dei ragazzi che vogliono... Noi vabbè, ci conosciamo da quando eravamo ragazzi e tu hai immediatamente cominciato grazie a un nostro professore che era un amante, era un appassionato dell'archeologia. Ecco, l'esempio di Schliemann, cosa può portare per i ragazzi? Cosa può essere? Beh, Schliemann diceva sempre che senza il duro lavoro non si va da nessuna parte, quindi il primo messaggio è quello di lavorare, lavorare con costanza. Credo. E poi c'è anche una componente romantica e frutto anche del periodo in cui lui visse, cioè la componente del sogno. Chi lavora, anche il mercante, anche l'imprenditore, non deve mai smettere di sognare. I have a dream, come diceva qualcun altro. Senti, noi ormai siamo arrivati in chiusura, però io una cosa te la devo dire. Agatha Christie una volta disse, un archeologo è il marito ideale, perché più invecchi e più si interessa a te. Questa penso che per un archeologo sia molto carina, lo diremo a tua moglie. Ok, Massimo, io ti ringrazio veramente tanto, abbiamo passato una mezz'oretta veramente interessante, però ti voglio veramente, ti voglio qua di nuovo per poter parlare un po' di te e di tutti i tuoi invece, il tuo lavoro e le tue passioni, perché sono veramente importanti e bella. Allora, noi oggi abbiamo parlato con Massimo, con il professor Massimo Cultraro, di Schliemann alla ricerca di Troia, le grandi imprese della storia, una collana del Corriere della Sera. È stata una bella trasmissione, secondo me anche molto interessante, perché ci ha fatto vedere un po' quello che può essere il mito di una persona che è conosciuta in tutto il mondo, ma nelle sue vesti più umane e forse anche per questo molto più divertenti e molto più apprezzabili. Per il resto posso dirvi soltanto noi settimana prossima ci vedremo, staremo di nuovo qui dalla parte del libro con un altro ospite altrettanto interessante. Per il momento posso soltanto dirvi ancora una volta grazie di essere stati con noi e buona vita a tutti. Ciao! Ciao!